Buongiorno a tutti, oggi preparo tortini di pasta frolla ripieni. Mi occorre 4 albumi, 4 tuorli, un pizzico di sale, 180 g di zucchero a velo, 200 g di farina di mandorle, un po' di vaniglia, essenza di mandorle e una bustina di lievito per dolci, marmellata di amarene, 180 g di zucchero e 180 g di burro. Inizio la preparazione, metto un pizzico di sale, metto il lievito per dolci, una bustina, la pasta frolla la faccio con il lievito. Metto lo zucchero. Le uova e il burro. Ora impasto. Una volta impastata, la lascio riposare per 10 minuti. Monto gli albumi con un pizzico di sale. Ora metto lo zucchero a velo. Metto la farina di mandorle. Metto l'essenza di mandorle. Una volta pronta, la lascio riposare in frigo. Ora stendo l'impasto. Metto un po' di farina. Ne prendo una parte. Ho steso l'impasto per 2-3 mm. Con un coppapasta faccio dei cerchi e inserisco dentro la teglia dei tortieni. mitto un potto. Grazie a tutti Grazie a tutti Faccio la prima teglia, vi faccio vedere come compongo i tortini Poi continuerò fino all'assorimento dell'impasto Inizio a mettere la marmellata di amarene Ne metto un cucchiaio Grazie a tutti Grazie a tutti Questo per arrivare all'estremità Grazie a tutti Vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 fino a cottura Eccoli pronti dopo 25 minuti Pronti da gustare Metto un po' di zucchero a velo sopra Vediamo come sono venuti dentro Eccoli Grazie per la visione Alla prossima Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti